I TSU O TSUDA 1 Capitolo I 1 Ecco un pensiero sorprendente da parte di un giovane uomo che allora aveva solamente 19 anni. Il maestro Nobucci, nato nel 1911, pubblicò nel 1930 Riflessione sulla vita integrale, di cui presento qui una traduzione. Riflessione sulla vita integrale Io sono. Io sono il centro dell'universo. In me risiede la vita. La vita non ha né inizio né fine. Attraverso me si estende all'infinito. Attraverso me si collega all'eternità. Come la vita è assoluta e infinita, anch'io sono assoluto e infinito. Se io mi muovo, l'universo si muove. Se l'universo si muove, io mi muovo. Io e l'universo sono uno, indivisibile. Un corpo e un pensiero. Io sono libero e senza barriere. Sono distaccato dalla vita e dalla morte. È così, ben inteso, anche per la vecchiaia e la malattia. Io, ora, realizzo la vita e dimoro nella quiete, infinita ed eterna. La mia condotta nella vita quotidiana rimane imperturbabile e inalterabile. Questa convinzione è incorruttibile ed eternamente inattaccabile. Questo pensiero non ha forse bisogno di commenti, per quelli che ne sentono direttamente l'impatto. Eppure mi rendo conto dell'enorme distanza che separa questo pensiero dal pensiero occidentale, che sottende la struttura mentale dei civilizzati. Tenterò di far emergere la differenza essenziale tra di essi. Il contrasto è molto forte. La vita integrale L'idea di Noguchi è la seguente. Solo coloro che vivono sviluppando appieno le proprie capacità hanno un sonno profondo. Solo coloro che hanno vissuto pienamente hanno una morte serena. Zensei, la vita integrale, è la parola che disigna questo modo di vivere pienamente, con il consumo integrale delle nostre capacità. Egli non ha mai predicato la longevità. La vita integrale si applica altrettanto bene a un elefante che vive cent'anni, quanto a una cicala che non vive che un'estate, dice Noguchi. Opporre grandi e piccoli essere vincolati da una tale valutazione vuol dire fidarsi della nostra limitata capacità di percezione. Concepire l'infinito in noi stessi è fortemente strano al nostro modo di vivere nella società moderna. Siamo obbligati a misurare le nostre capacità relative con riferimenti oggettivi. Io sono Questa affermazione è semplice, profonda e sublime. A differenza di Cartesio, Noguchi non ha bisogno di provare la sua affermazione. Non si trova in una posizione di distanza, ma è dentro rispetto alla propria affermazione. Questa ci può imbrazzare per la sua stessa semplicità, oggi che pensiamo Io sono qualcosa in rapporto a qualcos'altro. L'identificazione si intensifica fino ad arrivare alla perdita di identità. Gli astuti che sanno scegliere gli epiteti a seconda delle circostanze, per poterle meglio sfruttare, non mancano. Sono ricco per imporsi, sono povero per rivendicare. Ma nessuno osa dire Io sono. Punto. Io sono il centro dell'universo. Dal punto di vista occidentale, non può essere che la parola di un pazzo. Noguchi è un megalomane? Un fanatico che si crede Dio? Un mio amico ha incontrato un uomo che pretendeva di essere la reincarnazione di Gesù Cristo e che non la smetteva di scocciare tutti. Tuttavia, ciò che dice deriva da una banalissima constatazione Io sono l'unico a sentire il valore diretto della mia esperienza. Da questo punto di vista, chiunque può riconoscere di essere egli stesso il centro dell'universo. A ciascuno il proprio universo. Universo mentale? Universo soggettivo? Quanti universi ci sono nell'universo? Se si parte in questo modo, si può facilmente arrivare a un dialogo tra sordi. Cercherò di mettere un po' d'ordine nella nozione di universo, che può essere concepita in maniere molto diverse. In Occidente, l'universo è il luogo dove l'uomo si trova situato in rapporto ad altre cose, rispetto al prossimo, alla società, alla natura che ci circonda, a Dio che ci sorveglia, all'universo stesso con il suo mistero insondabile. Questa presa di posizione ci permette di stabilire dei sistemi di riferimento di una portata universale, o almeno internazionale. Tra questi sistemi di riferimento, i più importanti sono lo spazio e il tempo. La divisione di una giornata in 24 ore si impone a livello mondiale. Senza di questa, le telecomunicazioni o l'aviazione diverrebbero impraticabili, per citare solo questi esempi. Questi sistemi sono dunque molto validi per l'organizzazione della vita. Un'ora e un'ora, qualunque sia il luogo in cui ci si trovi, a Parigi, a New York o a Tokyo. La caratteristica di questi sistemi è la loro omogeneità. Kant ha ammesso lo spazio e il tempo come forme a priori della nostra percezione. Essi preesistono dunque alla nostra esperienza personale. Si sa che Kant è stato un perfetto modello di puntualità. Aveva l'abitudine di fare una passeggiata tutti i giorni ad un'ora fissa, cosicché gli abitanti di Königsberg lo consideravano preciso come un orologio. Tranno un giorno in cui la lettura di Jean-Jacques Rousseau lo mise in un tale stato di entusiasmo che dimenticò completamente la sua passeggiata quotidiana. Succede persino a Emanuel Kant. Il grande merito dell'Occidente è, credo, quello di aver apportato al mondo questa nozione di universo della percezione. L'inconveniente è che l'individuo diviene così un'esistenza nella cronologia universale. Egli è collocato, localizzato. Gli accade di non poter più concepire altri modi di vedere le cose. Il mio maestro, Marcel Grané, è stato un precursore per aver dimostrato che esistono anche altri modi di concepire l'universo. L'universo degli antichi cinesi è stato un universo non omogeneo che ruota intorno ad una virtù che nasce, si sviluppa, invecchia e deperisce come la vita di un animale. Qual è dunque l'universo di cui parlano Gucci? È, se si vuole, non potendo trovare di meglio, l'universo della sensazione. La sensazione non ha alcuna coordinata oggettiva. Tre ore di chiacchiere possono sembrare molto brevi. Un minuto di attesa dell'autobus può sembrare molto lungo. La vera sensazione non ha un linguaggio che lei è proprio. Si tenta di renderla comunicabile servendosi di parole dal valore relativo. Se si spoglia la nostra esperienza personale, da ogni tentativo di coordinazione, non ci resta che la sensazione. In effetti, la vita comincia con la sensazione, comeppure finisce con essa. E nel frattempo ci si organizza. La sensazione scompare man mano che la società si organizza per rimpiazzarla con delle parole. Bisogna sottomettersi alle costrizioni verbali per poterla comunicare. Si finisce per confonderla con l'idea che ce ne siamo fatti. Si crede di avere una sensazione, mentre si tratta soltanto di qualcosa che non riusciamo a toglierci dalla testa. D'altronde è proprio questo, che fornisce la base a tutte le tecniche di pubblicità. La sensazione pura non ha dimensione. L'universo non è più grande di un seme di papavero. Se nell'universo della percezione si arrivano a scoprire galassie a milioni di anni luce di distanza, non è per questo che la nostra vita, in quanto sensazione, ne viene influenzata in una qualche maniera. Un grano di pepe nel cibo, una spina in un dito o il grido di un neonato avranno più effetto su di noi che una scoperta scientifica. Per noi, che siamo modellati sulla concezione meccanica della vita, è difficile accordare alla sensazione un posto più importante di quanto si è ammesso nella società. Così, man mano che la sensazione si allontana dalla nostra vita, questa si priva di tutto ciò che le è naturale. Il movimento naturale, spontaneo del corpo, la differenza tra il gradevole e lo sgradevole, il funzionamento normale dell'organismo. Ci saranno sempre più persone con difficoltà di movimento. È il prezzo che si paga alla civilizzazione. Invece, man mano che si recupera la sensazione, la prospettiva cambia. L'orizzonte si allarga e il movimento diventa più libero. L'idea di essere noi stessi, il centro dell'universo, diventa concepibile. Un uomo mi ha detto «Ieri ho guardato le persone del mio ufficio doveva avere orologio a casa sua, malgrado le proteste dei clienti. Diceva che era inutile. Si mangia quando si ha fame, diceva. Non vale la pena essere schiavi dell'orologio». Al posto di un orologio meccanico, aveva un orologio organico estremamente preciso. ci rendiamo conto di quanto siamo assoggettati alla costruzione degli assi in spazio-tempo. Regoliamo la nostra fame in base all'orologio. Quando l'amministrazione decide di spostare in avanti l'orologio di un'ora per il periodo estivo, c'è un'ipnosi collettiva che si mette in atto. Bisogna allora seguire ciecamente il nostro istinto, mangiare e dormire a qualunque ora della giornata, senza tener conto dei disturbi che un tale comportamento potrebbe causare agli altri. Lei predica un'anarchia sociale? Secondo me, le cose avvengono in tutt'altro modo. Conosco il tormento di coloro che subiscono la costrizione dell'orario, consapevoli dell'ora alla quale devono alzarsi. non riescono a dormire. Mettono una o due sveglie perché suonino a qualche minuto di intervallo, situate in modo tale da essere obbligate ad alzarsi per fermare la suoneria e con tutti questi dispositivi saggiamente calcolati non riescano ad alzarsi in orario. Dopo la mia liberazione, io accetto lo stesso la costrizione dell'orario, ma ciò non pone alcun problema. posso alzarmi a qualunque ora senza difficoltà e senza sveglia. Basta che io lo accetti, senza altre cerimonie. Tra subire e accettare, la differenza non salta agli occhi, ma i risultati sono totalmente diversi. non è con continui sforzi che arriviamo a sentirci il centro dell'universo. È solo quando cessano le agitazioni e ritorna la calma che noi scopriamo la nostra vera natura che è quella di essere il centro dell'universo. La vita è una contraddizione permanente. Essa cambia aspetto a seconda della sensazione che si prova, a partire da uno stimolo, una parola, uno sguardo, un rumore, o a partire da una convinzione profonda di cui non siamo nemmeno consapevoli. A ben vedere, essa non è per niente logica. Ciò nonostante, possiamo sempre darle un'apparenza logica. Così, diverse teorie sull'origine della vita sono sostenute da ricerche sui processi biologici e molte altre cose. Bisogna mangiare per vivere, si dice. Così, vivere è sinonimo di nutrimento. Ciò non impedisce che si muoia comunque, pur avendo accanto a noi i migliori alimenti. Tutti questi argomenti diventano impotenti quando un giorno si scopre che si vive a dispetto dei ragionamenti che si edducono.